Anche una lista per il rinascimento di Vertova in campo alle amministrative candidato sindaco Orlando Gualdi tra le priorità Valvertova e Centro Storico. Giovani talenti si raccontano a Piario e Villadogna tre incontri aperitivi con Martina Bellini, Daniel Verzeroli e Marco Massini Lorenzo Pasini. Le Orobie tutte d'un fiato da Cassiglio al passo della Presolana 138 chilometri e l'impresa che a luglio vedrà protagonista Marco Zanchi uno dei nomi di punta dell'Ultra Trail italiano. Buonasera, ben trovati con il telegiornale di Antenna 2. Iniziamo con la cronaca, mattinata difficile lungo la provinciale della Val Seriana con code e traffico bloccato. La giornata è infatti iniziata con un incidente accaduto intorno alle 8.30 a Galzaniga nella zona del Portico dove si sono scontrati tre veicoli. Da una prima ricostruzione sembra che una Volkswagen Golf diretta verso Bergamo abbia invaso per cause imprecisate la corsia opposta scontrandosi con una Seat. Ne è nata una carambola che ha coinvolto anche un furgone Iveco. Quattro le persone coinvolte, tra le quali due uomini di 36 e 70 anni e una donna di 47. Una sola persona ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. È stata accompagnata in codice verde all'ospedale di Alzano da un'ambulanza del corpo volontario Presolana. I veicoli hanno riportato danni consistenti, completamente distrutte le auto, seriamente danneggiato il furgone. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e il recupero dei mezzi. Forti le ripercussioni sul traffico della Val Seriana con code in entrambi i sensi di marcia. Un altro incidente si è verificato poco prima delle 10.30, l'episodio questa volta in territorio di Albino sulla superstrada dove si sono scontrate un'auto e una moto. Coinvolti due uomini di 44 e 76 anni, nessuno di loro è rimasto ferito in modo grave. A peggiorare la situazione lungo la provinciale anche dei lavori nei pressi del semaforo di Colzate con il traffico regolato a senso unico alternato. Si sono formate lunghe code soprattutto in direzione Bergamo che in mattinata arrivavano fino a Ponte Nossa. Chiudiamo questa pagina, ci occupiamo adesso di elezioni amministrative. Andiamo a Vertova dove sono due le liste in corsa. Abbiamo già dato spazio alla Lega che candida a prima cittadina Mirella Zucca. Questa sera parliamo della civica Vertova Rinascimento. Abbiamo intervistato il candidato sindaco Orlando Gualdi. Orlando Gualdi, 61 anni, agente assicurativo e il candidato sindaco per la lista civica Vertova Rinascimento alle prossime amministrative del paese della media valseriana. Che cosa vi ha spinto a mettervi in gioco per le elezioni? Beh, presto detto, quando si hanno delle idee che trovi essere condivise da persone giovani, da professionisti, da persone volenterose, disponibili anche al cambiamento. Quando senti gente che continua a lamentarsi per dei problemi che sono nati nel comune di Vertova, allora a quel punto provi a chiederti anche se puoi fare qualcosa per risolvere questi problemi. Noi ci siamo trovati e abbiamo visto che queste idee collimavano, abbiamo trovato un'unità di intenti e con questa unità di intenti abbiamo cominciato questa avventura. Dopodiché mi è stato chiesto di ricoprire il ruolo di candidato sindaco e io è stato con onore che ho accettato. Vorrei soffermarmi sul nome della lista. Perché Rinascimento? Rinascimento perché Vertova viene da un ultimo periodo di stasi e in questo periodo sono sorti alcuni problemi. Alcuni problemi che non sono di grave natura, ma che noi all'interno della nostra lista abbiamo persone competenti in diversi campi e crediamo di poter riuscire a risolvere questi problemi. Per quanto riguarda il programma, quali sono i punti principali? Allora, in ordine di priorità metto al primo posto la Valvertova, vista l'estate che incombe, la regolamentazione dell'accesso in Valvertova, che è quello che ha dato più problemi negli ultimi anni. Poi una riqualificazione del centro storico con incentivi, sgravi fiscali per le giovani coppie che volessero ristrutturare gli appartamenti. Altri problemi che ci stanno a cuore sono ad esempio quello della sicurezza. Abbiamo pensato di installare delle telecamere e di riadottare la formula del vigile locale. Poi la viabilità, mettere mano alla viabilità vorrebbe dire anche dare una mano ai negozi che ultimamente stanno morendo. Dopodiché, per quanto riguarda il sociale, abbiamo pensato anche a un pacchetto a tutela del cittadino che possa essere utile per avere delle analisi gratuite, a domicilio, eccetera, per gli eventi di rito naturalmente. Oltre all'organizzazione di eventi culturali e sportivi che ultimamente a Vertova sono un po' mancati. E poi abbiamo anche in progetto lo studio dell'installazione di un impianto fotovoltaico a sostegno dell'illuminazione pubblica. E questi sono solo alcuni punti del programma che noi intendiamo realizzare con l'aiuto dei vertovesi. Vediamo anche i candidati consiglieri della lista Vertova Rinascimento. Sono Marco Mutti, Luca Guerinoni, Cristina Bonfanti, Sergio Grassi, Monica Bernini, Marco Zaninoni, Mirko Grassi, Elio Paganessi, Ornella Adami, Roberto Brignoli, Elena Cabrini e Stefano Rudelli. Cambiamo argomento. Una primavera di cantieri sul territorio di Ardesio con il sindaco Ivan Caccia. Abbiamo fatto il punto sui lavori pubblici in arrivo. Lo avevamo già detto in precedenti interviste. Sono diversi i lavori che il comune di Ardesio ha programmato per questa primavera del 2019. Ormai ci siamo. Quali saranno gli interventi che partiranno a breve? Innanzitutto partirei con nuovi stanziamenti fatti nell'ultimo Consiglio Comunale dove, grazie all'applicazione di parte dell'avanzo dell'amministrazione, abbiamo finanziato 170 mila euro di asfaltature che in linea di massima saremo in grado di fare nel mese di settembre e un intervento di straordinaria estumulazione al cimitero del capoluogo per una situazione un po' di crisi che abbiamo riscontrato negli ultimi tempi. Stumulazioni tra l'altro già appaltate in corso di realizzazione. Dopodiché abbiamo stanziato anche 10 mila euro per affrontare con un progetto in maniera definitiva anche il termine della ristrutturazione dei viali e delle aree di tumulazione, quindi delle tombe del campo di sinistra del cimitero del capoluogo e la verifica della situazione negli altri due cimiteri, quello di Bani e quello di Valcanale. Questo solamente con l'ultima variazione di bilancio fatta nell'ultimo Consiglio Comunale grazie all'avanzo dell'amministrazione. In realtà quello di cui discutiamo è di tutta quella serie di appalti che sono stati realizzati nel periodo invernale e per i quali vedremo partire i lavori proprio entro la fine del mese di aprile. Parliamo di 6 bandi che sono andati in appalto, 6 gare che sono state espletate partendo da quella per l'assignazione Chiosco e la gare di Valcanale che è stata vinta da un'azienda agricola di Gandino che ha già visto la presenza degli appaltatori con la presenza dei loro prodotti. Dopodiché sul fronte vero e proprio delle opere pubbliche abbiamo appaltato grazie alla centrale unica di committenza della provincia di Bergamo il lavoro della Bivio e della Cunella, abbiamo appaltato i lavori di sistemazione e di implementazione tramite lampale LED di diverse contrade di Ardesio, in particolare More, Valzella, Ludrigno e Carpignolo. Abbiamo appaltato 130 mila euro di interventi straordinari su mure e garreile lungo le strade comunali, più 50 mila sono in fase di appalto grazie allo stanziamento fatto dalla legge Salvini per i comuni sotto i 20 mila abitanti, sono in fase di appalto anche il rifacimento di 100 mila euro di muri lungo l'argine del fiume Serio in località Cunella e poi per le opere già appaltate è stato appaltato il completamento dei lavori sui marciapiedi e sull'asfalto del viadotto 25 aprile ed è stato appaltato il cimitero di Valcanale, l'abbattimento delle barriere architettoniche. Tutta questa serie di opere che ho elencato erano già state finanziate nel corso del 2018 e in minima parte nel corso del 2019. Le procedure sono state piuttosto lunghe perché lunghi sono i tempi di progettazione e delle fasi di appalto delle opere. In totale quindi in questi lavori quanto investe il Comune? L'elenco che ho appena fatto comprende lavori per un totale di 860 mila euro che quindi verranno realizzati nel corso del 2019. Dopodiché va detto che dei quasi 900 mila euro di avanzo di amministrazione accertati ancora quest'anno ne rimangono liberi a disposizione, noi pensiamo ancora una cifra intorno ai 650 mila euro, tenuto conto che abbiamo diverse domande di contributo alle quali aspettiamo delle risposte e parteciperemo tra l'altro al bando GAL per la realizzazione della caldaia cippato per il polo scolastico. A Villa Donia e Piario da domani sera tre incontri con giovani che sono riusciti con coraggio e creatività a inventare il loro futuro. L'iniziativa è organizzata dalle amministrazioni comunali insieme alla cooperativa Sottosopra. Scatta un ciclo di incontri a Villa Donia e Piario e per questa iniziativa avete scelto come titolo Non è un paese per giovani con il punto di domanda finale. Perché questo titolo? Buongiorno a tutti. Questo titolo che abbiamo appunto concordato all'interno del progetto Giovani promosso dalle amministrazioni comunali di Piario e di Villa Donia e condotto dal punto di vista educativo dalla cooperativa Sottosopra è un titolo un po' provocatorio perché il progetto Giovani si pone proprio la voglia, il desiderio e l'obiettivo di proporre a dei giovani delle cose significative che li aiutino nella loro crescita e nel loro progetto futuro. Allora la domanda è i nostri paesi riescono ad offrire qualcosa di significativo che faccia poi da bagaglio per i giovani per andare poi nel mondo per seguire un po' la loro strada. E allora l'idea è proprio un po' questa di invitare tre giovani all'interno di questi aperitivi che presentino la loro storia, il loro spunto di partenza in cui hanno fatto appello alle loro competenze aiutate anche dal loro territorio per poi costruire un progetto coraggioso futuro. E chi sono questi tre giovani? I tre giovani che rappresentano anche competenze e capacità diverse sono Martina Bellini che è appunto una sciatrice che ormai ha raggiunto anche livelli molto importanti pur mantenendo la sua capacità e la voglia di studiare e di essere all'interno di un percorso universitario, Daniel Verzeroli e Marco Massini che a partire dalla loro creatività e dalla loro capacità di inventare un marchio hanno inventato questa tutta una serie di capi di abbigliamento legati alla motocicletta e stanno facendo girare il loro marchio un po' in tutto il mondo. Nel terzo aperitivo sarà invitato Lorenzo Pasini che è uno dei musicisti del gruppo musicale che ormai sta diventando famoso anche grazie al concerto del primo maggio il gruppo pinguini tattici nucleari. Ecco dove si svolgeranno e quando questi incontri questi aperitivi? Il primo aperitivo sarà domani sera venerdì 3 maggio alle 18 e 30 al bar Beach della zona Biciocca di Villadogna. Il secondo aperitivo sarà giovedì 9 maggio sempre alle 18 e 30 al bar La Locanda di Ogna e il terzo sarà martedì 21 maggio 18 e 30 al centro sportivo di Piario. Di proposito facciamo questi incontri in questi bar che sono bar frequentati dai giovani perché ci piaceva e su questo ringraziamo molto questi baristi che hanno dato la disponibilità perché è anche un modo per far vedere che il bar non è solo un luogo un po' trasgressivo ma può essere anche un luogo interessante di incontro di chiacchiera e di confronto. Per la prima parte è tutto ci fermiamo per una pausa il telegiornale torna tra poco. Rieccoci in onda con il telegiornale. Andiamo a Gazzaniga dove la sala civica nei prossimi due venerdì domani e il 10 maggio ospiterà due incontri. Nel corso del primo verrà presentato un libro durante il secondo si parlerà di salute. Domani sera venerdì 3 maggio alle 20 e 30 nella sala civica della biblioteca di Gazzaniga la presentazione di un libro. Di che libro si tratta? Dunque si tratta di un libro edito dalla casa editrice Mondadori e il titolo è Un amore diverso e tratta l'autrice è Lella Di Marino e questo libro tratta della storia di un personaggio piuttosto conosciuto Gianni Molaro che è diciamo conosciuto dalla maggior parte della popolazione come lo stilista delle spose. Tra l'altro l'autrice è conosciuta qui a Gazzaniga. Si è conosciuta perché ha collaborato negli anni passati con in particolare con le insegnanti della scuola primaria perché è stato letto un suo libro ai ragazzi e è stato commentato dai ragazzi poi c'è stato l'incontro con il solito incontro con l'autore dopodiché è stato fatto anche un progetto con i ragazzi. Da questo progetto è scaturita una mostra molto interessante con disegni dei ragazzi e diciamo si è creato poi un rapporto di collaborazione e simpatia con questa autrice e quindi all'uscita di questo nuovo romanzo che è già in ristampa per cui è già stata fatta una ristampa per cui ha anche un discredito successo. Ha chiesto la possibilità appunto di presentarlo qui da noi visto che la collaborazione che si è creata poi nel corso del tempo e quindi la cosa è stata accolta piacevolmente insomma. Sempre in sala civica una settimana dopo quindi venerdì 10 maggio è in programma un altro incontro questa volta dedicato alla salute. Esatto. Su stimolo della dottoressa Isabella Carderi responsabile del reparto di epatologia dell'ospedale di Piario ci è stato chiesto di fare questa serata divulgativa che sarà rivolta a tutta la popolazione ma in special modo ai medici condotti per le nuove terapie che si vanno a fare sui malati di epatite. Queste nuove cure sono cure poco invasive e risolutive. Io adesso non vi so spiegare in modo tecnico come funzionerà quindi vi invito a venire quella sera per sentire la dottoressa che vi darà tutte le spiegazioni e vi saprà rispondere alle curiosità del caso o se siete interessati saprà saprà rispondere insomma. Quindi ricordiamo l'orario? Ore 20 e 30 presso la sala civica la sala sotto la biblioteca del comune di Gazzaniga. Marco Zanchi 40 anni di cene tra i nomi di punta dell'ultratrail italiano a luglio si cimenterà in un'impresa da 138 chilometri che ha chiamato Orobbie d'un fiato. Ne parlerà domani sera a Target con Gian Antonio Bonaldi. Vediamo un'anteprima. Nel Target di domani sera o a Target di domani sera che dir si voglia abbiamo ospite Marco Zanchi. Marco Zanchi è uno Sky Runner. Benvenuto. Buongiorno. Buonasera a tutti. Allora Marco Zanchi presenta un video ma ve lo lasciamo presentare addirittura a lui. Noi qui cerchiamo di conoscere chi è Marco Zanchi. Uno Sky Runner quindi un corridore del cielo. Io mi permetto di dire anche un po' matti siete? Sì ormai siamo in tanti essere matti di questa passione. Diciamo che nei ultimi anni sono partito un po' come Sky Runner adesso sono diventato probabilmente anche tramite l'età sono diventato più sulle ultradistanze quindi attraversate di chilometri parliamo anche a volte di 100-150 chilometri. 144 chilometri l'ultratrail no così? Sì l'ultratrail dell'Orobbie con un record il suo 23-14 e qualcosa. Esatto. Lo scorso anno qui è in maglia azzurra perché è stato anche azzurro. Cosa ti danno queste mattate qua? Cosa ti danno e cosa ti tolgono? Ti danno che ti riempiono il cuore, ti riempiono la vita queste gare, queste attraversate. Mi permettono innanzitutto di visitare posti fantastici qua e là per il mondo e poi mi fanno vivere la montagna in una maniera, se vogliamo dirla, in una maniera veloce. Forse ho fretta di visitare tutto. Allora lui presenta una sua traversata, Orobbie d'unfiato, che qua la presenta il 9 maggio, quindi fra pochi giorni, lì alla Sport Evolution, lì perché è qui a Quattropassi, che è un negozio di articoli sportivi a Clusone. Lì capiamo cosa fa lui, 150 chilometri da Cansiglio al passo della Presolana, ma se è pronto il video io lascio partire quello e sentiamo dalla sua viva voce cosa fa. Intanto vi ringrazio tutti quanti, alla prossima. La prima volta che senti parlare di Orobbie ero con i miei genitori a Rifugio Corò, ero solo un bambino. In tutti questi anni l'ho attraversato il lungo e il largo. Ora è giunto il momento di farle a modo mio. Tutto erunfiato. È un viaggio che partirà da molto lontano. Ripercorrerò la storia di queste Orobbie, che tanto ci hanno dato e tanto hanno ancora da regalarsi. Da vecchi libri ho scoperto storie fantastiche di queste montagne e ora è giunto il momento di raccontarvele. Questo viaggio comincerà sabato 6 luglio a Cansiglio, in Alta Valbrembana e terminerà domenica al passo della Presolana. Tanti chilometri ricchi di emozione, assieme a tanti amici. Restiamo in qualche modo in tema. Torna all'Effe, uno degli appuntamenti più attesi della corsa in montagna. Sabato 4 maggio è in programma la sedicesima edizione del trofeo Valli Bergamasche Memorial Luigi Castelletti. La sfida andrà in scena giusto una settimana prima dei campionati italiani a staffetta che si disputeranno a Saluzzo in provincia di Cuneo l'11 e 12 maggio. In Val Seriana ci sarà quindi l'occasione per un prologo di tutto rispetto. Occhi puntati soprattutto sui padroni di casa dell'Atletica Valli Bergamasche, squadra padrona del trofeo da otto anni. I ragazzi della società organizzatrice correranno forti anche del rientro ormai ufficiale della loro punta di diamante, il valdostano Xavier Chevrier. La sfida sarà soprattutto con i fratelli Bernard e Martin De Matteis, oro e bronzo agli europei di corsa in montagna 2018, entrambi atleti della Corring Time. Il percorso è di circa otto chilometri e contempla tra l'altro la salita al Monte Beio. Partenza e arrivo saranno come sempre in Piazza Libertà nel centro di Leffe. Il programma prevede alle 15 il via alla staffetta maschile e alle 15.10 la partenza della prova individuale per le donne. Alle 18 la cerimonia di premiazione. E ora l'appuntamento con Biberon e i neonati dell'ospedale di Alzano. E ora l'appuntamento con Biberon e i neonati dell'ospedale di San Antonio. E ora l'appuntamento con Biberon e i neonati dell'ospedale di San Antonio. Ci aspetta una breve pausa, torniamo tra poco per la parte finale. Di nuovo in onda con il nostro TG verso la chiusura con i programmi di Antenna 2. Iniziamo dal canale principale. Questa sera alle 20.30 la pallavolo femminile di serie B2. La partita CBL Costa Volpino-Busa Food Lab-Gossolengo. Alle 22.30 la seconda edizione del TG. Alle 23.15 ancora sport con la rubrica Hard Track. Il canale News 218 alle 21.30 il telegiornale. Alle 22.10 l'anteprima Target. Questa sera un servizio dedicato a un libro sui gandinesi e la grande guerra. Il canale sportivo 628 alle 20 Antenna 2 Sport. Alle 21 tempi supplementari. E adesso l'almanacco. Domani è venerdì 3 maggio. Il sole sorge alle 6 e tramonta alle 20.35. La luna sorge alle 5.48 e tramonta alle 18.52. La chiesa ricorta i santi Filippo e Giacomo. Infine le previsioni del tempo. Domani su Alpi e Prealpi Lombarde. Al primo mattino cielo poco nuvoloso. In seguito aumento della nuvolosità con deboli precipitazioni nevose intorno ai 1500-1600 metri. Temperature in graduale diminuzione. Ed è tutto. Grazie per averci seguito e buona serata. Grazie per averci seguito e buona serata.